Rallenta la campagna vaccinale in Campania. Stop alla campagna vaccinale in Campania. Le dosi di vaccino, in particolare Pfizer, sono terminate andando a ridurre fortemente la mole di vaccini giornalieri, costringendo anche alcuni tra i maggiori hub di vaccinazioni, tra cui quello della mostra d'oltremare, alla sospensione momentanea, in attesa che nella giornata di mercoledì da Roma arrivino nuove forniture di vaccino. Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali della mostra d'oltremare e da Angara Atitec. Queste le parole del direttore dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, che fa sapere attraverso una comunicazione ufficiale che lo stop avrà luogo per la totale assenza di dosi a mRNA. La sola ASL Napoli 1 Centro, spiega il direttore generale Ciro Verdoliva, garantisce in media la somministrazione di 12.000 dosi al giorno, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento del target quotidiano di 48.200 dosi al giorno assegnate alla nostra regione da parte del commissario straordinario di governo. È evidente che questo stop avrà conseguenze importanti sull'andamento della campagna vaccinale in Campania. Nei prossimi giorni, quindi, almeno fino alle 14 di mercoledì, sarà garantita la somministrazione per mezzo a Strazeneca e, ove possibile, Moderna. Proprio nelle scorse ore, il governatore Campano De Luca, nel corso di un intervento nella trasmissione Mezz'ora in più, torna a far polemica con il governo in materia di attribuzioni dei fondi del PNRR al Sud e distribuzione dei vaccini. Non credo che ci sia una grande sensibilità per il Sud nel governo, al di là delle parole, ha aggiunto il presidente dell'Aggiunta regionale Campana. E devo ricordare, ha aggiunto De Luca, che ogni cittadino della Campania riceve per sanità 30 euro in meno di uno della Lombardia e 40 in meno di uno del Lazio. Vincenzo De Luca ha poi concluso, il Sud riceverà ancora meno del 40% previsto nel recovery plan, perché, per arrivare al 40%, hanno inserito risorse dei fondi già destinati al Sud. Ancora uno stop alla campagna vaccinale, che proprio nella scorsa settimana aveva toccato sodio a 2 milioni di dosi inoculate. Un fermo che risulterà senz'altro pesante sul proseguio delle vaccinazioni da Covid-19. Ancora uno stop alla campagna. Un fermo che risulta da Covid-19. Un fermo che risulta da